Dalla Valle Cantuna, salve! Finalmente anche da fuori si stanno riposando due persone sulle panchine del monumento, quindi se gentilmente volete lasciare un commento, perché vi siete fermati, cosa avete visto... Per vedere il paesaggio che ti piace tanto, per la valle qua, per la strada... Siamo circondati dalle montagne... Da dove provenite voi? Da Osago, provincia di Treviso. Ah, benissimo! Quindi da fuori provincia? Sì, sì, noi siamo... Alla grande proprio! Siamo l'ultimo paese prima della provincia di Portanone. Ah, benissimo! Proseguite adesso verso l'Alpago? Adesso andiamo su a Pieve d'Alpago, Garna, Fara d'Alpago, dunque dopo facciamo il sinistro lago di Santa Croce, Palalto, Vittorio Veneto, San Giacomo, San Martino di Colle Umberto, Cordeniano e Orsago. Arrivati domani mattina, dove per notare? No, 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 no! No, no, no! No, no! Bene! Noi in Noegra... Noi siamo, come si dice, turisti proprio, escursionisti ecco! Andiamo alla ricerca di, come si dice, dei bei paesaggi, case, quelle cose lì, la roba ristrutturata, ecco ci piace! Ma è nuovo questo percorso per voi o...? No, io l'ho fatto anche ieri, ma io lo faccio sia in mountain bike che anche con lei mountain bike, se no io lo faccio con la bici da corsa. Ok! Ieri abbiamo fatto il contrario, abbiamo fatto il consiglio, Tambre, sì, Sant'Anna, Tambre, Pianon, Schiucat, dentro su per, di qua, contrario, no? E noi giù di qua e andiamo a casa, insomma! Invece che andare a Londra, fate le vostre Olimpiadi qui, insomma, a Garcia! Noi sì, noi sì, noi sì! Bene, allora... Noi... Ti piace stare fuori, partiamo la mattina alle 8 e mezza, 9, fino alle 6, alle 5 e mezza, 17, 18 di sera, stiamo fuori, mangiare fuori, quelle cose lì, guardare, non so se c'è qualche manifestazione o se no... Una vita sana e sportiva? Sì, purtroppo non molto capeggiata da... non siamo molto, come si dice, tutelati per la strada... Eh, va bene! Questo sì, però questo è! Bene, allora noi ringraziamo i nostri ospiti di passaggio a D'Arsie e auguriamo una buona prosecuzione! Grazie! Grazie, saluti! Grazie! Grazie! Grazie!